Io ho deciso di rinnovare per la seconda volta l'abbonamento misura di famiglia per i bambini, un bambino particolarmente appassionato delle storie di Walt Disney, quest'anno in particolare c'è anche Biancaneve, Sene Gretel e quindi abbiamo deciso di proseguire. In più forse aggiungeremo anche l'abbonamento per lo spettacolo dei clown, visto che l'anno scorso abbiamo visto lo Slava che è piaciuto molto, quindi probabilmente sarà una cosa che catturerà il bambino.